Grazie sono ancora l'ultimo obiettivo che è dovenato con un serco sono stati messi a mezzo sono stati messi si, però lui è venuto a Milano sono stati messi alcuni soldati dallo studio è dovenato con un serco un messi poi c'è chi va non si deve anche parlare al telefono ma vedi come ha chiamato il pax è sempre un pax poi ho messi a mezzo io ho messi a mezzo una settimana facciamo la vista questa è una settimana più bella e più grande grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti